A pochissime ore dall'Election Day, l'FBI ha annunciato la chiusura per la seconda volta delle indagini sulle mail di Hillary Clinton. Non ci sarà nessuna inchiesta di incriminazione. Per James Comey, direttore dell'FBI, non è stato rinvenuto alcun illecito. Solo il 28 ottobre scorso lo stesso Comey aveva richiesto ulteriori indagini. Donald Trump durante un comizio Minneapolis ha così commentato la chiusura delle indagini. Clinton è colpevole, lei lo sa, l'FBI lo sa e la gente lo sa. È incredibile, non si possono esaminare 650.000 mail in otto giorni. C'è un sistema totalmente falsato. Secondo quanto riferisce oggi NBC News, buona parte delle mail erano già conosciute al team investigativo. Solo alcune di loro erano nuove rispetto al passato, ma non riguardavano questioni ufficiali. Eppure sono molti gli analisti che ritengono che la ragione per cui tanti americani hanno un problema con l'onestà e la capacità di ispirare fiducia e sincerità da parte della Clinton, resti immutata. Wikileaks ha pubblicato nuove mail da cui emerge che la Clinton Foundation riceveva donazioni milionarie dagli stati esteri che volevano ottenere qualcosa dal Dipartimento di Stato guidato da Hillary. La fondazione ha dovuto ammettere di aver accettato un milione di dollari dal Qatar, senza informarne il Dipartimento di Stato. È il sistema Pay to Play. All'epoca della signora Clinton, segretario di Stato, se un governo estero doveva trattare qualcosa con gli Stati Uniti d'America, doveva prima passare alla cassa della fondazione Clinton. Al tempo stesso la fondazione ha pagato 3 milioni di dollari per il matrimonio di Chelsea Clinton, le ha comprato una casa da 10 milioni di dollari e l'ha assunta con uno stipendio di 600 mila dollari all'anno. Eppure i fondi della fondazione Clinton dovrebbero essere usati per beneficenza. Intanto Hillary resta avanti con il 47% contro il 43% di Trump, secondo il nuovo sondaggio Washington Post e ABC News. Ma ci sarebbero ancora una decina di Stati in bilico. Vincere uno di questi Stati vuol dire acquisire una dote di grandi elettori che può rivelarsi determinante per raggiungere il numero dei 270 necessari per la conquista della Presidenza. Ma in realtà stiamo assistendo ad uno scontro tra due fazioni dell'elita americana che hanno trovato nei due contendenti i loro pripiste elettorali, seppur molto deboli. La campagna elettorale in corso è un'enorme macchina del fango tesa a screditare l'avversario con ogni mezzo e con ogni sorta di notizia manipolata. La posta in gioco è cosa deve essere l'impero americano nei prossimi decenni e come uscire dalla sua crisi. Il Cremlino ha annunciato che prolungherà la sospensione dei bombardamenti su Aleppo. Dal 18 ottobre la Russia ha interrotto i bombardamenti quasi quotidianamente. Una tregua decisa unilateralmente da Russia e Siria per consentire l'evacuazione dei civili e dei feriti e il ritiro dei combattenti. Ma gli otto corridoi umanitari creati a tali scopi sono rimasti quasi deserti, mentre ad Aleppo l'offensiva di Daesh prosegue. Fonti locali riferiscono di numerose vittime, sia tra la popolazione civile che nelle fila dell'esercito siriano. In Iraq le cose non sembrano andare meglio, solamente ieri nel paese sono morte 155 persone e altre 157 sono rimaste ferite sotto i colpi d'artiglieria. Intanto il capo del governo russo Dmitry Medyeved, commentando la tesi secondo cui la presenza delle forze aeree russe in Siria limiterebbe la possibilità di Israele di difendere il suo territorio nel caso in cui armi moderne finissero nelle mani di Hezbollah, ha dichiarato che la Russia parte dal presupposto che nessuno deve intraprendere azioni tese a fomentare le tensioni e il conflitto. L'intelligence militare della Gran Bretagna lancia l'allarme su un nuovo supercarri armato russo, che sarebbe, a detta degli 007, di gran lunga superiore a qualsiasi mezzo disponibile alla NATO. Armata T-14, questo è il nome del carro armato, è più veloce, leggero ed è dotato di un sistema radar tuttora vigente nell'aviazione. L'intelligence è critica verso il governo britannico, che non avrebbe intenzione nei prossimi vent'anni di sviluppare carri armati in grado di contrastare Mosca, minaccia crescente per la sicurezza della Gran Bretagna. Il ministro della difesa britannico Michael Fallon ha dichiarato che la Gran Bretagna si prepara la guerra contro la Russia nel giro di due anni, all'interno di un'operazione NATO. La dichiarazione arriva assieme alle estenazioni dei servizi segreti MI5 su una possibile strategia contro la Russia, e dieci giorni dopo l'avvistamento della porta aerei russa Admiral Kuznetsov nello stretto di Dover, scortata da altre navi mentre era diretta verso il Mediterraneo, in supporto al governo siriano di Assad. Ma Fallon punta il dito anche contro i sottomarini che sarebbero all'argo delle coste britanniche e dai disturbi che sarebbero stati provocati a sistema di sicurezza aereo. Il ministro, in una mossa che definisce di deterrenza, intende mandare 800 truppe britanniche in Estonia nella prossima primavera. L'ennesima provocazione. No a Renzi, no al referendum. Con questo slogan si è svolta a Firenze la manifestazione contro la deforma costituzionale. Sabato 5 novembre, circa 5.000 persone provenienti da tutta Italia hanno sfidato il livieto della Questura a manifestare, e hanno provato a raggiungere la Leopolda. Immediato è ricorso le cariche delle forze di polizia, ai lacrimogeni, ai manganelli e agli arresti. Invece che gestione dell'ordine pubblico, è sembrato in più un metodo violento, tra l'altro già visto, di repressione del dissenso. I mass media hanno fatto subito partire la macchina del fango e della menzogna, parlando di piccoli gruppi di violenti. Al solito mentono sapendo di mentire. Il 27 novembre prossimo, organizzazioni sindacali di base, movimenti civili e sociali hanno già indetto un'altra manifestazione a Roma, a tutela della Carta Costituzionale. A dispetto di tutte le contraddizioni delle alleanze storiche e politiche, nuovi scenari sembrano svilupparsi nel Mar Pacifico, e i paesi che vi si affacciano sembrano decisamente intenzionati a liberare le vele per cominciare un nuovo ciclo della storia dell'umanità. Mosca e Tokyo auspicano di raggiungere un accordo su circa 70 progetti in vista della prossima visita del presidente russo Vladimir Putin in Giappone, prevista in dicembre. Finora le relazioni economiche russo-giapponesi si concentravano intorno all'energia, ma ora Mosca è interessata anche allo sviluppo dell'ambiente urbano, alla promozione dell'estremo oriente russo, alla cooperazione nel campo delle alte tecnologie. Nel 2014 il Giappone ha aderito al diktat statunitense appoggiando le sanzioni economiche contro la Russia. Ma in due anni molto è cambiato e la strategia dell'isolamento scelta per Mosca da Washington non sembra funzionare, nemmeno tra gli alleati degli Stati Uniti d'America. Dopo la notizia del lancio del razzo spaziale cinese lunga marcia 5, tappa fondamentale del programma di conquista della Luna per il 2022, Pechino oggi ci sorprende di nuovo, confermando come il dominio delle supertecnologie sia uno fra gli elementi fondamentali per vincere la leadership mondiale. La Cina infatti sta realizzando il prototipo di un nuovo supercomputer la cui capacità di calcolo equivarrà a 20 milioni di desktop uniti tra loro. Il prototipo supererà di ben 10 volte quello che attualmente è il sistema più veloce del mondo, presentato a Pechino solo pochi mesi fa. Per fare lo stesso calcolo che questo computer esegue in 60 secondi servirebbero 7,2 miliardi di persone che per 32 anni utilizzino incessantemente una calcolatrice. La Cina possiede 167 dei primi 500 supercomputer del mondo. La storia quasi infinita del Brexit si è arricchita di un nuovo capitolo, che potrebbe essere intitolato così, come finisce la sovranità popolare nella prima democrazia liberale della storia. L'ha scritta l'Alta Corte Britannica, rimettendo nelle mani del Parlamento la decisione popolare via referendum di uscita dall'Unione Europea. Non sfuggono alcuni dettagli, uno dei quali è che la Costituzione Europea, ovvero il Trattato di Lisbona, prevede il referendum come opzione che ogni popolo ha a disposizione per decidere se restare in Europa oppure no. Viene anche casualmente in mente che l'esito del Brexit non piacque affatto al signor Peter Sutherland. Uomo ad affari e finanza che fu presidente di Goldman Sachs e non sembra essere andato in pensione. Subito dopo l'esito referendario dichiarò infuriato che esso dovrà essere in qualche modo rovesciato. E ora l'Alta Corte è stata messa in movimento non dal popolo, ma dalla signora Gina Miller, prima firmataria dell'istanza di revisione. La signora e il di lei marito Alan sono ricchissimi agenti di borsa, proprietari e gestori di quegli hedge funds che hanno permesso negli anni passati di accumulare fortune immense con poco sforzo e grande ingegno. Uno solo di questi, il New Star, ha permesso la coppia di accumulare 30 milioni di sterline. Così si capisce meglio da dove viene la pressante richiesta di cancellare il Brexit. Questi pescicani sanno a cosa dovranno rinunciare, stando fuori dall'Europa.